E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, qui è Pablo Giallorosso, ha parlato Francesco Totti, questa conferenza stampa che ci voleva come il pane perché ha dato chiarezza, ci sono stati dichiarimenti importanti, Totti ha parlato senza filtri, senza peli sulla lingua e veramente ci ha dato, diciamo la verità, ci voleva questa cosa perché Totti ha umiliato praticamente Pallotta e Baldini con una professionalità incredibile, veramente costile senza diffamare nessuno, ha umiliato la società, ovvero la non società della Roma, quindi in questo video parleremo, analizzeremo ogni punto attraverso quattro fogli ma spero ovviamente di essere sintetico però è importante secondo me argomentare il bene del tutto, quindi è un video importante e fondamentale, quindi vi chiedo di seguire questo video con attenzione, andiamo a pari passo come se stiamo a quattro occhi, cosa mai accaduta tra Totti e Pallotta perché l'ha detto, il presidente non ci sta, il presidente non parla, non mi parla, non parla con nessuno, ascolta solamente persone sbagliate, Franco Baldini e non vuole il prete della Roma praticamente, però il discorso è un altro, analizziamo ogni punto, allora partiamo dalla cosa più importante perché uno qua potrebbe dire allora Paolo, a Totti hanno offerto il ruolo del direttore tecnico quindi non è vero che non rientrava nel progetto, ah sì? E come in quale modo hanno offerto il ruolo del direttore tecnico a Totti? dopo che avevano già deciso tutto senza coinvolgere Totti, tu mi offri il ruolo del direttore tecnico e che decido mo? qual è la mia importanza? Avete scelto il direttore sportivo, l'allenatore, tutto avete scelto senza prendermi in considerazione dopo che scegliete le cose dice, guarda Totti non pote potere direttore tecnico e il direttore tecnico ha l'ultima voce per quanto riguarda il direttore sportivo e l'allenatore, allora mi state prendendo in giro, mi state prendendo in giro cioè voi mi date una carica dopo che avete già deciso tutto senza di me quindi che cosa faccio io del direttore tecnico? Avete già fatto tutto senza di me ha risposto anche per il motivo per il quale non è andato a Londra ma hanno chiamato due giorni prima, due giorni prima mi chiamate e avete già scelto tutto deciso tutto senza coinvolgermi, allora che ci vengo a farlo? Andrà a far che? E' il burattino? A farmi via in giro? Io non so, stupido ha detto, giustamente quindi, Totti non è mai stato preso in considerazione, non è mai stato coinvolto in nessuna scelta lui ha detto, io una volta mi sono mosso, una, con Fienga anzi, ha aperto una parentesi bellissima per Fienga perché anche lui stava ricevendo insulti come tutta la società della Roma, ha detto, guardate, Fienga è l'unico con le palle Fienga è l'unico che vuole bene della Roma onore a Fienga e rispetto per Fienga che in un branco di sciacalli dimostra di metterci la faccia l'unico che ha preso in considerazione, Totti, che ha preso in considerazione anche De Rossi perché Fienga è stato l'unico che ha offerto un ruolo importante all'interno della società a Francesco Totti e dopo che la società, quindi Baldini, Pallotta, hanno deciso di far smettere De Rossi, Fienga è stato l'unico che ha cercato di fare il meno peggio di cercare di tamponare la situazione offrendo un ruolo dirigenziale anche a De Rossi dice, io a giocare non posso fate giocare, perché non posso, non posso però non ti voglio manco cacciare via dalla Roma, quindi se vuoi fare dirigente Roma aperta, e De Rossi ovviamente ha rifiutato perché vuole fare il calciore, ma questa è un'altra parentesi sostinano tutto, quindi leggo ogni punto, quindi dice, non mi hanno mai convolto non mi hanno mai convolto ho sentito Conte, con Fienga stava dicendo mi sono mosso per sentire Conte avevo l'occhio di Conte, però poi le garanzie che chiedeva la società, la Roma di fallotta, non poteva garantirle, perché Conte non chiedeva una rivoluzione, cosa che la Roma fa praticamente ogni anno, perché abbiamo dei debiti col fair play finanziario maledetto, ogni volta stiamo a meno 50, a meno 45, e quindi dobbiamo sempre vendere i migliori, la Roma vende sempre, anzi Totti l'ha detto la Roma deve vendere, quindi Totti ci ha detto che la Roma quest'anno venderà i più forti, ce l'ha detto Francesco Totti, poi ha detto una cosa importante per quanto riguarda la società, ha detto bisogna dire la verità, io oggi sto qui per dirvi la verità, a tifosi va detta la verità, no, che uno cerca di dire cose che piacciono e poi non mantiene le promesse, perché tante volte Pallotta ha parlato quest'anno, Moncio ha parlato dicendo non vendere a nessuno, Rudiger non parte, Alice non parte, Pallotta dice Nangola non parte, poi partono tutti, ogni volta ci stanno le parole ambiziose e poi i due fatti niente, Totti l'anno scorso disse, quest'anno a Roma arriva quarta o quinta, e tutti non capisce niente, sta parlando di sessi, sta parlando di sessi, bisogna essere onesti, sinceri con i tifosi, perché non si meritano di essere presi in giro, Pallotta da questa società ha preso in giro Totti e i tifosi della Roma, con un processo di deromanizzazione che con l'addio di Totti e De Rossi è il culmine, ma vediamo se cacciano pure Florenzi e Pellegrini, perché a sto punto non lo so, ma torniamo al discorso principale, dicendo che Totti chiedeva di essere direttore tecnico, però per le scelte non è mai stato considerato perché l'ultima parola all'interno della società l'aveva Franco Baldini, un consulente esterno di Pallotta, tant'è che Totti dice chiaramente che Pallotta ha sempre avuto, ha sempre, tanto che stava lontano, preso consigli da gente sbagliata, sempre le stesse, allora dice, sono otto anni che sbagli, sono otto anni che fa cavolate, fatti le domande, fatti le domande anche se la gente è arrabbiata con te e datti pure la risposta, perché non è possibile, posso sbagliare dieci volte, ma se sbaglio pure l'undicesima io mi pongo una domanda, ma poi perché penso di non essere stupido, ok? Allora, tornando al discorso, ovviamente Totti cerchi da leggere il fatto dicendo continuare per attivare la Roma, ma tornando a Baldini, dice, per quanto riguarda Baldini, trovo qual punto, Franco Baldini, è un rapporto che non c'è mai stato e mai ci sarà, quindi frecciatina è allucinante, allucinante, perché dice, è tempo perso questo, perché l'ultima parola è a Baldini, quindi noi potevamo pure offrire, proporre delle cose, andare al soldo, concretizzare alcune cose, ma poi se Baldini diceva di no, era no, punto, dittatura, dittatura di Baldini questa, dittatura di Baldini e di Pallotta, perché Pallotta dice al presidente, sì, va bene, questi altri discorsi, comunque, per quanto riguarda la gestione dell'area tecnica, una scelta a Totti l'avrei data, però non me la dai dopo che ha già scelto tutto, perché se no mi sta prendendo il giro, io qua a far pupazzo non ce sto, quindi è giusto che lui se ne sia andato, è giusto che Totti se ne sia andato per il bene della Roma, perché dice, io che ci sto a fare, che sto a spaccatura con tutti, nessuno mai vuole, sono un peso, me l'hanno sempre visto come un peso, io un peso per la Roma, non voglio esserlo, quindi mi dimetto e me ne vado, per il bene della Roma, e dice, non è che è una scelta l'altro presa banale, lui sta soffrendo dentro, lui sta soffrendo dentro per questa scelta, ha detto, era meglio morire oggi, praticamente, che lasciare Roma, ragazzi, sono 30 anni che Totti sta alla Roma, 30 anni di fila, 30 anni, e Totti lascia la Roma, hanno fatto lasciare la Roma a Totti, hanno fatto lasciare la Roma a De Rossi, anche qui si parla di contatto con la società, la trasparenza della società, Totti diceva, parlando anche con De Rossi, alla società, a settembre, ragazzi, questo è l'ultimo anno di De Rossi, non fate come avete fatto con me, che mi avete avvertito due giorni prima, parlate con De Rossi, volete cacciarlo, diteglielo però, io non sono d'accordo eh, però diteglielo, non fate gli infami e portate il rispetto verso il capitano e bandiere della Roma, che è Daniele De Rossi, che hanno fatto, la settimana prima, le fine del campionato gli dicono che siete vanno, complimenti, 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 per il rispetto proprio umano, non parliamo qua di bandiere, rispetto umano e lavorativo, professionalità, rispetto non ci sta, etica non ci sta, e Totti oggi veramente ha umiliato tutti, dal primo all'ultimo, dal primo all'ultimo ha umiliato tutti, tutti, anzi Totti, per fare battudine no? Comunque, ah, ecco la considerazione che aveva la Roma per Totti, io sapevo le cose leggendo i giornali, leggendo i giornali sapevo le cose, pensa un po' quanto era importante per la Roma, pensate un po' quanto valore avrebbe avuto anche dal direttore tecnico, avevano già scelto tutto prima, lo ripeto per l'ennesima volta, perché è importante questo, ok? Poi, momento difficile e non posso aiutare, dice, momento difficile e non posso aiutare la Roma, perché l'altro non mi considera nessuno, è che rimanga a far serva di pallotta, giustamente, però dice rivederci, perché sotto un'altra proprietà, se mi vogliono, se posso essere importante per la Roma, ritornerei a mani, veramente, in ginocchio, cioè Francesco Totti, no? Non è il primo arrivato, per quanto riguarda sempre la proprietà della Roma, la gente dice, ma andiamo via pallotta, come facciamo a mandare via pallotta, ora non si muove, la Roma è sua, la Roma è di pallotta, purtroppo, sì, vabbè, ma posso dire, la Roma è dei tiposi, sì, grazie al cavolo, noi siamo alla Roma, va bene, tutte parole belle, ma la Roma, concretamente, è di pallotta, alla domanda, per farvi capire, veramente, l'uomo che è Francesco Totti, alla domanda che gli hanno fatto, se pallotta fosse a Roma, per la Roma o per lo stadio, quindi se gli frega qualcosa da Roma o se sta qui solamente per lo stadio, noi tutti sappiamo la verità, scusate, che ha pallotta da Roma e non vi frega niente, lui è un imprenditore, lui costruisce, lui è un imprenditore, vuole fare soldi e tu sta qui per lo stadio, e tutti sapete che ha detto? Non vi posso rispondere, per correttezza non vi posso rispondere, quindi onore a Francesco Totti, che aveva l'opportunità di diffamare, non di diffamare perché, di umiliare ancora di più queste persone che hanno umiliato lui, lui ha preferito tacere, portare rispetto, perché lui è un uomo a differenza vostra, ok? Poi, non è che dice pallotta, vattene Totti, Totti dice, pallotta deve essere bravo a riconquistare la fiducia dei tifosi, non sta andando contro nessuno Totti, spiega solo perché se ne sta andando, perché effettivamente è un uomo di pallotta maiale, ma non l'ha fatto, potrebbe benissimo dirlo, perché cerca un uomo di dare fiducia, tant'è, abbiamo parlato di un allenatore che non è stato preso in considerazione, lui ha parlato solo con Conte, ha detto, solo che non davi garanzia a Conte e tutto, però dice, fiducia a Fonseca, cioè non è che mo' perché Fonseca non ho scelto io, è perché l'ha scelta società del cavolo, non bisogna dargli fiducia, ha detto, Fonseca è un buon allenatore, in bocca al lupo, tant'è che Totti dice, mi auguro comunque sia, che pallotta possa ascoltare anche gente che dà consigli giusti e che possa vincere, che possa fare bene, perché alla fine Totti è romanista come noi, tant'è che fa battolina, Postiano vado in curva sud con Daniele De Rossi, tanto sta parlando troppo, a me sta da affastire pure la gola. Comunque, torniamo un po' altre cose che mi sono segnato, perché non vorrei veramente dimenticarmi qualcosa. Poi, allora, ho parlato di Conte, la romanità è importante, lui ascolta solo le persone che vuole, dice, quindi non può, non può avere una menzione ampia del tuo ascolto di amici tua, cioè, veramente imbarazzante. Poi, altro foglio, altro foglio, ah, Totti dice, non è stato rispettato il percorso che era stato offerto e proposto all'interno della Roma, quindi anche qui capiamo la competenza della nostra società. Sto morendo, vi giuro, sto morendo. Ci sono state tante promesse non mantenute da parte di Pallotta, la Pallotta è nulla per le storie di, basta parlare dal 2011 e le promesse che sono state fatte. Sto morendo e abbiamo già la risposta, però adesso torniamo indietro, perché Pallotta lanza frecciatina anche ai giornalisti, quale Ostini, Ostini, ma come cacchio dico? Vabbè, avete capito? Come Ostini, ma come cacchio dico? Vabbè, avete capito? Pallotta dice il contrario, perché Totti dice, quando ha parlato di Conte, che ha sentito solo Conte, Pallotta dice, Totti è stato importante per la scelta di Fonseca e per la scelta del direttore sportivo. Totti dice il contrario, cioè lui non è stato preso in considerazione, quindi qua c'è sta. O dice cavolata Totti, o dice cavolata Pallotta, ma Totti dice, che me frega di dire che qua è una buona cavolata. Comunque, abbiamo parlato di Fienga, abbiamo parlato di Ranieri, che ringrazia. Non capisco, poi dice, per la questione De Rossi, quando Totti dice, è da settembre dico di parlare a De Rossi, capitano, e va rispettato, e la società dice, sì, sì, poi vediamo, intanto passano i mesi, vabbè, poi vediamo, c'è tempo, sì, poi passano i mesi, due giorni prima, te ne vi dirà. E quindi Totti dice, non capisco se questa cosa è voluta, oppure non ci pensano, e purtroppo, mi sa che è proprio quello che vogliono. Le varie romani da Roma ce l'hanno fatta, ce l'hanno fatta, ma almeno facessero un po' di rispetto. Per quanto riguarda i Catariotti, Totti ha parlato che ci sono molte persone interessate alla Roma, ma Pallotta non vuole vendere, quindi ragazzi è inutile che ci ha attaccato, ci ha attaccato una pipa, perché veramente non vuole vendere, ripeto, ma vi faccio un esempio concreto, Ferrero vorrebbe comprare Roma a mani bassi, però Pallotta non la vende. Io so che Ferrero ha fatto anche un'offerta per Pallotta, Pallotta è rifiutato, poi i Catariotti pure sarebbero interessati, ma Pallotta non vuole vendere, quindi è inutile parlare di queste voci. Presidente, Pallotta non poteva fare niente. Poi ragazzi, frase importante, senza capo fa quello che ti pare, Pallotta è il capo ma non ci sta mai, quindi per questo c'è anche questa confusione, Pallotta non ha parlato con De Rossi mai, con Totti mai, parla solamente con Bardini praticamente, ci ha detto pure la R per romanizzare la situazione, visto che la romanizzazione Pallotta la vuole elevare. Quindi, in conclusione, questa è una scelta difficile, ma lo fa per il bene della Roma, anche perché Totti non si mischia con la feccia, mi pare ovvio. Io mi auguro veramente che la Roma possa fare bene, a prescindere che sono romanista e ti fa la Roma, non ti fa una pallotta, però è una scelta difficile questa di Totti, rispetto per Totti perché ha fatto la conferenza stampa con i contro, sapete cosa, ha umiliato tutti, senza veramente filtri, quindi onora a Francesco Totti, onora a Fienga che merita il rispetto dopo tutte le frecciatine che ha ricevuto, mentre è l'unico della dirigenza che si salva, così ha detto Francesco Totti. Spero di aver detto tutto e di essere stato esaustivo. Allora, pensate che questo lungo video possa finire qui, lasciate un like, un commento, iscrivetevi. Da Pablo Giallo Rosso è tutto, adios.